Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Ma... C'è un pozzo... Cosa è il suo? Bukkake? Cosa è? Bukkake? Non, non, non. Non c'è, non c'è, non c'è. Ho, Ray, hang up, Ray, hang up. Rhi, hang up, Ray, hang up. Rhi, hang up. No, no, no. Oh, no, no. Questo è perché io sono l'unico che calla Ray. Lo vendere, Ray. Non c'è, Ray. Non, Ray, Ray, non c'è. quindi tutti sono usciti per andare avanti è quella che dovessi fare a te obererà obererà? obererà? un tipo di paretto? allora come un altro, un altro, un altro come un altro è così c'è molto più 5 sono le regio stelle mai nichi suoi bravi città l'appli be aってる posta antaになったら中を教えて io ea utu noi che ha dettoだからそっち頑張り ma utu noi taじゃない nespo omae ha ne cino motu no ga hita na dake Oh What's holy shit? What Those prices Wow What do you mean I just realized how broke I am Fucking Buddha smoking crack Wow, I'm running a senior buns Wow All right on this episode of people have egos and don't know what DMCA is we find ourselves with a dumb bitch Anyway, moving on Push northbound runway one Right again going off-road pedal to runway one push northbound 1050 Wow Holy hell What the fuck There's no way Ain't no way you meant to do that shit What do you mean you think I didn't mean to do that Andrews, you think I didn't mean to do that, Andrews? Oh no no What the fuck was it your accident I don't know Andrews, that was 100% on purpose and you know it ok I do that shit all the time Ain't no fucking way Ain't no way Ain't no way It's... It's... Really? I'd like to basically No, 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 you can't leave, you can't leave, no, you can't leave. It's RP! 5 minutes! They're probably cold now, this is for the fucking roaches, give it to the rag kingdom, fuck me, don't serve this to the fucking customers. Ok, ok, ok Ok, ok Throw it on the fucking ground That's better Say yes chef, yes chef Yes chef Now I want you to grab that bucket And put it on your fucking head Dump all those fucking fries All over you A golden shower The only golden shower you'll ever gonna fucking get Nunu Do uh Nunu do you want to be my girlfriend Yes What Yes Yes Really Yes Oh sorry I was just so excited I just wanted to embrace you Oh Really Oh my god do you mean it I mean it I'm yours you're mine Official Oh my god I'm so happy La felicità è la mia famiglia, ma è un pocchio, ma è stato molto difficile. Fai l'arrivo di la nostra, ma che non le vedi, non le vedi, non le vedi che non le vedi. Ma che non le vedi da la nostra, non le vedi la nostra, ma che non le vedi. Sì che non le vedi! Sì un non c'è chi tu mi sere ma ciao ne sono assurato a mai amai né chi mi ea no taito non si kata mo gian gato si è un maく感じるし oma tanso ちょっと緩い悪意味で緩い però l'argo che seiことわかるん でもボスも感じることと思うんだけどまぁ Tucki è quello che non mi piacevole, ma non è un impatto. Lo che ho ho anche pensato, ne sono le cose che ci sono. Lo che ho anche fatto. Lo che ho ho pensato di GANGU è proprio un po' che è diverso. Ma quando si tratta di GANGU, mi pensato di GANGU è un po' che è piaciuto. ma sono quei ma nonostante ma nonostante ma nonostante ma nonostante Buongiorno Buongiorno Noi 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 Lo Si 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 Sì 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 ... Sì Sì non ti дивo tando una pezda ora sempre si ha chiesto che ci sono per te anche domini la macchina è molto figa a non Sì posto Rockerlo Ok! Qu terracchio per fare! Stai per la prima volta! Lassi! Stai! Che cosa che ti sent con un? Nagrudo aώρα! Sì, ok! La scuola! Ok! Stai per la prima volta! Ok, Stai per la prima volta! All'in, che stai! Ha ha ha! Nice! 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 Oh, c'era il nuovo voto di Sugandis? No, cosa è quello? Non lo so. Non ho mai sento di lui. Oh, me nemmeno. Sugandis. Non lo so. C'è qualcosa di legma? C'è legma? Non lo so. Why is that funnier? Why is that even funnier? Non lo so. Let anybody fall to you. 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 You are amazing. Okay, on the road. Is that 50? Take primary R2. There you go. Oh. What? Oh, my. Are you okay? 76. 76. 76. Anybody have a fire? We sure think he's a fire. Oh, my. 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 Speed through two red lights I rest my case This nigga, ok Your Honor, I like to argue the fact that If that was the case, why was he given Disobey, failure to Obey a traffic control device, Your Honor I'm stuck Do we want to hear, Marty Are you just going to say, no I didn't Is that it?